Il governo musumeici destinerà altri 15 milioni di euro da ripartire tra i circa 230 comuni siciliani virtuosi che hanno superato nel 2021 il 65% di raccolta differenziata dei rifiuti. L'hanno reso noto il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri questa mattina alle Ciminiere di Catania in occasione della premiazione agli enti locali ricicloni. Presente anche il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti Calogero Fotti. Di questa somma 10 milioni sono destinate a incentivare iniziative utili per incrementare il livello di riciclo sulla base di schede progettuali che gli enti territoriali dovranno presentare all'assessorato in tempi brevi. I restanti 5 milioni saranno destinati a progetti pilota innovativi e condivisi per attività mirate alla riduzione dei rifiuti e alla incentivazione alla raccolta differenziata. Ma vediamo quali sono i comuni della provincia di Caltanissetta che avranno questi premi, contributi che riguardano la raccolta differenziata. Si tratta di Butera, Campofranco, Delia, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Monte d'Oro, Resuttano, Serra di Falco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Prattameno e Villalba.